Il 16 e il 17 maggio 40 studenti delle scuole superiori di Prato porteranno in scena al teatro Fabricone La Fattoria degli Animali di George Orwell, testo non facile ma scelto dal direttore artistico del Metastasio Paolo Magelli per avvicinare le nuove generazioni alla politica in un momento di grande disaffezione generale. Lo spettacolo è il frutto del laboratorio teatrale promosso per il terzo anno consecutivo dal Metastasio Stabile della Toscana insieme all'assessorato all'istruzione della provincia di Prato che ha preso il via lo scorso dicembre con l'analisi del testo di Orwell. Venerdì e sabato prossimi il lavoro di questi mesi culminerà con lo spettacolo vero e proprio. Le scuole che hanno aderito al progetto sono il Convito Cicognini, il Liceo Scientifico Copernico, l'Istituto Tecnico Gramsci Keynes, il Liceo Pedagogico Rodari e il Classico Cicognini, il Liceo Artistico di Montemurlo e il Liceo Livi.